più accanto a quella che è l'area cosiddetta della ciaff finita infatti l'altra volta è venuta meglio ci troviamo nel cortile della cavallerizza il cortile più a sud del complesso monumentale della pilotta era un locale coperto dove venivano portati i cavalli del duca per quello che era il dressage dell'animale e il duca poteva da un'apertura guardare all'allenamento chiamiamolo così dei suoi cavalli preferiti attualmente questo spazio è tutt'altra cosa è uno spazio verde dove sono ancora raccolti alcuni reperti archeologici ed è stato oggetto di un importante opera di recupero voluta dal direttore della pilotta simone verde che ha trovato negli amici della pilotta un'associazione fondamentale nell'azione di questo museo il soggetto col quale portare a compimento l'obiettivo di restauro di quest'area che quindi è stata piantumata sono stati razionalizzati quelli che erano i reperti archeologici che qui erano presenti perché era consuetudine accumulare qua quello che era il materiale archeologico più voluminoso un tempo questo luogo ospitava molto più materiale archeologico che è stato stivato in altri depositi in maniera più ordinata ed ecco quindi che è stato restituita alla nostra città uno spazio verde decoroso sicuramente avrà in futuro una funzione fondamentale in quello che può essere prima di tutto un punto d'appoggio per l'associazione amici della pilota che nei due locali di entrata in questo spazio ha ricavato quelli che potranno essere appunto la sede dell'associazione ma anche questo luogo potrà essere di appoggio a varie iniziative legate a sezione del museo della pilota che insiste sul perimetro di quest'area è precisamente il museo archeologico che occupa tutti gli spazi perimetrali di quest'area anch'esso è oggetto di un importante rifacimento interno e a breve anche esterno perché quelli che sono gli intonaci che in questo momento sono ammalorati dal tempo verranno rifatti l'appalto è già stato aggiudicato e quindi quest'area alla fine del suo percorso si presenterà come un'area completamente nuova a servizio prima di tutto della città